Arianna mi chiede che cosa ne pensi dello human design, che è una scienza straordinaria, come la numerologia vedica, come l'astrologia vedica, come la cabala, belle, belle tecniche, belle scoperte fondate, portate avanti da personaggi interessanti. C'è un rischio in tutto questo e lo dico spesso quando parlo dei miei amici numerologi, dei miei amici astrologi e quindi anche qui dei miei amici dello human design, amici che portano avanti con grande passione lo studio dello human design. E il suggerimento è di non cadere nel tranello, nella trappola della mente e cercare di capire tutto, perché se cerchi di capire tutto attraverso la mente, sia che tu lo faccia con la numerologia, sia che tu lo faccia con l'astrologia, sia che tu lo faccia con lo human design, hai sbagliato tutto percorso. Perché? Perché la mente è limitata, è limitata, i sensi sono limitati, il mondo, il mistero della vita è infinito. Guarda queste piante, non capirai mai come fa a crescere questa pianta, è incomprensibile per la mente. Puoi dare un accenno, puoi vedere delle similitudini, un qualcosina, un breve accenno dell'infinità del mistero della vita. Quindi se cerchi di capire il mistero della vita attraverso la mente sei fuori strada. La strada è andare verso il cuore, è entrare dentro. Se non sai come collegarti dentro puoi chiedere aiuto, c'è un link qui da qualche parte dove ti mostriamo i percorsi, i percorsi di The Answer, i percorsi della risposta, di The Code, del codice, dove ti aiutiamo ad entrare dentro in connessione profonda con te stesso, con te stessa, affinché possa trovare le risposte. Perché le risposte non sono nella conoscenza, le risposte non sono nella mente, le risposte sono nel cuore. Devi sentire ciò che è giusto per te, non capire. È lì il barbatrucco. Se cerchi di capire, a un certo punto entri e ti perdi. Se invece utilizzi lo Human Design per vedere la bellezza maestosa dell'universo, allora straordinario. Perché anche lo Human Design, come la numerologia, l'astrologia, hanno delle sfumature molto interessanti che ti fanno apprezzare ancora di più la bellezza del creato. Quindi se quello è il tuo caso, se usi lo Human Design per vedere la bellezza del creato, sei sulla strada giusta. Se utilizzi lo Human Design per cercare di capire il creato, ah, 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 ah.